Secondo lei, perché dovrei lavorare per la National Security Agency? Beh, ti troveresti a lavorare in prima linea. Avresti a che fare con un genere di tecnologia che non vedresti altrove perché l'abbiamo classificata segreta. Teoria della super stringa, matematica del caos, algoritmi avanzati... Decifrare codici? È uno degli aspetti del nostro lavoro. Oh, avanti, è questo il vostro lavoro. Ragazzi, fate l'80% della roba dell'intelligence. Siete almeno sette volte più grandi della CIA. Non amiamo vantarci di questo, Will. Ma hai perfettamente ragione. Perciò, per come la vedo io, la domanda non è perché dovresti lavorare per l'N6. La domanda è perché non dovresti. Perché non dovrei lavorare per l'N6? E questo è tosta. Ma provo a buttarmi. Diciamo che lavoro all'N6 e mettono sulla mia scrivania un codice che nessuno sa decifrare. Forse ci provo e magari ci riesco. E sono fiero di me perché ho fatto bene il mio lavoro, ma forse indica la località di un esercito ribelle in Nordafrica o in Medio Oriente. Ottenuta la località, bombardano il villaggio dove i ribelli si nascondono. 1.500 persone con le quali non ho mai avuto problemi restano uccise. Ora i politici dicono, oh, spediti Marine sa sorvegliare la zona perché non gliene frega niente. Non ci sarà un loro figlio a farsi sparare come non c'erano loro quando era il momento perché erano in gita nella Guardia Nazionale. Ci sarà un tipo di Saudi a prendersi una sventagliata nel sedere. Torna in patria per scoprire che la fabbrica in cui lavorava è stata esportata nel paese da cui è arrivato. E quello che gli ha sbrindellato il culo ora sta al suo posto e lavora per 15 centesimi al giorno e non va mai a pisciare. Nel frattempo capisce che la ragione per cui l'avevano mandato a combattere era installare un governo che ci avrebbe venduto il petrolio a buon prezzo. Ed è chiaro che le compagnie hanno usato quella scaramuccia lontana per addomesticare i prezzi. Un aiutino notevole per i loro profitti. Ma non aiuta il mio amico a 2 dollari e 50 a gallone. Ci vanno con molta calma a reimportare il petrolio. Magari si prendono fino anche un alcolizzato skipper a cui piace bere martini e fare pazzi slalom tra gli iceberg. Finisce che quello ne c'entra uno. Sparge il petrolio e uccide la vita del nord atlantico. Così il mio amico ora è senza posto, non può permettersi l'auto e va a piedi a fare i colloqui di lavoro e si sfrange perché la sventagliata nel sedere gli ha procurato le emorroidi. Nel frattempo muore di fame perché ogni volta che cerca di mangiare la sua prospettiva è un merluzzo del nord atlantico intriso di petrolio salato. Allora cosa ho pensato? Mi conservo per qualcosa di meglio. Ci rifletto cazzo mentre aspetto perché non uccido il mio amico? Gli frego il posto, lo do al suo peggior nemico, alzo i prezzi della benzina, bombardo un villaggio, ammazzo le foco e fumo hashish e vado nella guardia nazionale. Potrei essere eletto presidente. Grazie. Grazie. Grazie.